Buongiorno, sono il dottor Mauro Molteni, lavoro nella degenza breve internistica dell'ospedale Tradate della SST Sette Laghi. Oggi abbiamo parlato dei farmaci biosimilari e del percorso dell'ospedale al territorio. I farmaci biosimilari sono una nuova opportunità, soprattutto nell'ambito della terapia anticoagulante parenterale con le recenti innovazioni o con le recenti opportunità terapeutiche, quindi mi riferisco all'introduzione dei biosimilari di enoxaparina, sono una nuova possibilità di trattare i nostri pazienti. Va ricordato e specificato una cosa però che nell'ambito del processo prescrittivo, nell'ambito del processo terapeutico rimane fondamentale il primo step. Il primo step è quello della prescrizione. La prescrizione che deve essere adeguata e si deve basare su quelle che sono le reali evidenze scientifiche, su quella che è la best medical practice e quindi è da qui che dobbiamo partire. In merito all'utilizzo clinico delle eparine a basso peso molecolare biosimilari va altresì ricordato che i dati di cui disponiamo sono dati forti dal punto di vista farmacocinetico e dal punto di vista farmacodinamico che dimostrano la sovrapponibilità delle eparine biosimilari con i farmaci originator va altrettanto ricordato quanto però i dati clinici ancora siano limitati e quanto sia necessario ricorrere o meglio raccogliere nuovi dati clinici. È difficile pensare che ci saranno studi randomizzati di ampia dimensione per confrontare biosimilare d'originator e pertanto ragionevole e doveroso che i clinici anche e soprattutto nell'ambito di società scientifiche producano studi osservazionali, studi di registro per raccogliere questi dati che sono fondamentali e che possono rendere questi farmaci biosimilari da una attrattiva terapeutica ad una reale opportunità terapeutica.